Ciao ragazze, nuovo video, e finalmente con la luce naturale, perché sono a casa mia, davanti alla finestra. Allora, io stanotte ho realizzato questo modulino qua, che mi piace molto, e mi piace soprattutto perché il rivoli è evidente al 100%, a parte questa, la piccola incastonatura, però si vede tutto, guardate, non so se riesco a farvi vedere bene, si vede proprio tutto il rivoli. Ecco, allora, ho fatto questa versione che ho chiamato violetta, proprio per la colorazione, ho utilizzato questa goccia che ho acquistato dall'Uvi Bijou, ho utilizzato queste perle cerate da 4 mm, prese da Beatsmine, molto carine, però adesso io vi farò questa versione qua, senza la goccia, con queste perle da 4 mm iridescenti prese da perline e gioielli, mi piace molto. Molto carino, incastonatura anche qua, innovativa, tra virgolette, mi piace, molto bello, molto elegante in questa colorazione. E nulla, allora, cominciamo con il tutorial. Prima di tutto vi dico i materiali. Allora, Rokai 11.0, che io utilizzo in due colorazioni, dorate e rubi. Rokai 15.0, perle da 4 mm, bicono da 4 mm, superduo, rivoli da 14 e basta, mi sembra, sì, mi sembra di aver detto tutto. Ecco qui, sistemo tutto e cominciamo con il tutorial. Allora, il primo passaggio è quello di inserire sul nostro filo 20 Rokai 15.0, 20 Rokai 11.0. Chiudete a cerchio, soliti nodini, senza stringere troppo il lavoro, perché dovremmo inserire altre 4 Rokai 11.0. Allora, fuori usciamo da una Rokai qualunque. E cosa facciamo? Prendiamo un'altra Rokai 11.0 e ci inseriamo nella Rokai successiva, nelle 5 Rokai successive. Così. E lo fate incastrare bene. E ce la posso fare. Ecco qua. Vedete come si va a incastrare? Un'altra Rokai 11.0 e ci inseriamo nelle 5 Rokai successive. 1, 2, 3, 4 e 5. E tiriamo il nostro filo. Vedete che comincia a formarsi il quadrato. Un'altra Rokai 11.0 e ci inseriamo nelle 5 Rokai.0 e ci inseriamo nelle 5 Rokai.0. Ecco qua. Il primo passaggio da fare è questo. Adesso fuori usciamo da una Rokai 11.0 di punta, di quelle delle 4 appena inserite. Di una delle 4. Ecco qui, vedete. Inserite sull'ago una 11.0, un bicono, una 11, un bicono e una 11.0. E ci inseriamo nella Rokai sporgente successiva. Facciamo questo passaggio anche qui, qui, per tutte e quattro i lati praticamente. Quindi Rokai, Bikono, Rokai, Bikono, Rokai e ci inseriamo in questa perlina. Stessa sequenza e ci inseriamo in questa, stessa sequenza e ci inseriamo in questa. E dopodiché fuoriusciamo da un bicono. Allora, ecco qui come ci ritroviamo. Fuoriusciamo dal primo bicono. Ecco qua. Inseriamo 3 Rokai 11, sempre della stessa colorazione, e ci inseriamo nel bicono successivo. Ecco qua. Ce la posso fare oggi. Ecco qua. Stiamo uscendo da questo bicono. Inseriamo 7 Rokai 11.0. Io sto utilizzando quelle dell'altra colorazione per fare l'incastonatura. E mi inserisco nel bicono successivo. Ecco qua. Quindi, tra un bicono e l'altro, inseriamo 3 Rokai 11.0. Quindi dove sotto abbiamo una Rokai 11. Dove sotto abbiamo 3 Rokai 11.0. Quindi, uscendo da questo bicono, inseriamo 7 Rokai 11.0 e ci inseriamo in questo bicono qua. E facciamo praticamente questi due passaggi per tutto il giro. Ecco qui come ci ritroviamo. Adesso fuoriusciamo dalla quarta delle sette inserite. Inseriamo 3 Rokai 11.0. E ci inseriamo nella Rokai centrale delle sette successive. E iniziamo a stringere. Vedete che si chiude il lavoro. Perché questa è la nostra incastonatura. Quindi altre 3 Rokai. E ci inseriamo nella centrale delle sette successive. Facciamo questo per tutto il giro. Dopodiché prendiamo il nostro Rivoli da 14.0. Lo mettiamo a faccia in giù. E stringiamo bene. Allora, ecco qui che il nostro Rivoli è perfettamente incastonato. Trovo questa incastonatura molto veloce da fare. E tra l'altro il modulino che ne esce fuori è molto carino. Per cui si potrebbe pensare anche di fare più modulini in questo modo per realizzare un braccialetto. Sarebbe molto carino. Ecco qua. Adesso fuoriusciamo da un bicono. Dove praticamente sotto abbiamo le 3 Rokai 11.0. Inseriamo una Rokai 11.0, una Super Duo, una Rokai 11.0, una Super Duo e una Rokai 11.0. Quindi la sequenza da aggiungere è questa qui. E ci inseriamo nel bicono successivo. Ecco qui come si andrà a sistemare. E facciamo questo passaggio per tutto il giro. Allora, ecco qua come ci ritroviamo. Adesso fuoriusciamo dalla terza Rokai delle 3. Quindi da questa qui. Da questa Rokai qui. Dobbiamo uscire da questa. Però si veda. Ok, così si vede. Inseriamo due Rokai 11.0, sempre della colorazione dorata. E ci inseriamo nel foro alto della Super Duo successiva. Tra una Super Duo e l'altra aggiungiamo due Rokai 11.0, una perla da 4 mm e due Rokai 11.0. Questo modulino rispetto a questo qui è leggermente modificato. Perché io qua ho aggiunto una Rokai, una perla e una Rokai. Però poi non mi piaceva il fatto che questa perlina qua andasse a scontrarsi con la perla. Quindi in questa versione ho deciso di cambiare. E ho deciso di inserire una perlina 11.0 in più. Allora, uscendo dalla Super Duo, inseriamo due Rokai 11.0 e ci inseriamo nelle tre Rokai successive. In tutte e tre. Quindi dobbiamo fare questi tre passaggi. Allora, in pratica dobbiamo fuoriuscire dalla tripletta, inserire due Rokai 11 e inserirci nel foro alto della Super Duo. Tra una Super Duo e l'altra dobbiamo inserire due Rokai, una perla e una Rokai. Fuoriusciamo da questa Super Duo e inseriamo due Rokai 11.0 e rientriamo nuovamente all'interno della tripletta. E facciamo questo per tutto il giro. Ecco qua come ci ritroveremo. Già così il modulino è molto carino. Però io ho voluto fare un'ulteriore decorazione. In pratica adesso, fuoriscendo da questa Rokai qui, dobbiamo fare le coroncine sulle perle. In particolare io, cosa ho fatto? Dove andrò ad agganciare la mia monachella? Ne metto sei. Mentre negli altri punti ne metto cinque. Poi voi siete liberissime di fare ciò che volete. Io ho preferito fare in questa maniera. Allora, quindi, dove è il lago? Che non lo vedo. Quindi, fuoriusciamo da questa Rokai, prima della perla. Inseriamo sei Rokai. Due, tre, quattro, cinque, sei. Undici in zero. E ci inseriamo soltanto nella prima Rokai che si trova subito dopo la perla. Ecco qua. Adesso prendiamo tre Rokai quindici. e ci inseriamo nella Rokai che si trova sotto, tra le Super Duo. Prendiamo altre tre Rokai quindici. E ci inseriamo alla Rokai 11.0 che si trova prima della perla. Quindi, allora, quindi, la seconda, questa qui. Vi faccio vedere bene. Così, non sbagliate. Questa Rokai qui, proprio la seconda. Mi sa che lo vado ad annodare così, un attimo. Ecco, vedete la decorazione, com'è carina così. A differenza, invece, di questa versione, dove io non ho fatto nessuna decorazione, proprio perché la perlina era troppo al ridosso della perla. Invece qua, essendo più alta, sono riuscita a fare la decorazione. Adesso, passiamo attraverso le perline. Ed usciamo dalla seconda, quindi da questa qui. Ce la faccio a farvi vedere. Questa perlina qui, la seconda. Ecco qua, da quale Rokai dobbiamo uscire. Quindi, usciamo dalla seconda Rokai. Inseriamo 5 Rokai 11.0 della seconda colorazione. 4 e 5.0 e ci inseriamo, in pratica, nelle ultime due, prima della superduo. Così. Dopo quel passaggio successivo andremo a raddrizzare questo gruppetto. Adesso, fuoriusciamo dalla Rokai prima della perla. Inseriamo 5 Rokai 11.0. 3, 4, 5. E ci inseriamo nella prima Rokai 11.0, subito dopo la perla. Inseriamo 3 Rokai 15.0 e ci inseriamo nella Rokai 11.0 che troviamo sotto. Altre 3 Rokai 11.0. E ci inseriamo nella seconda Rokai prima della perla. E così abbiamo fatto anche qui la nostra decorazione. Adesso, in queste tre punte, quindi a parte questa dove andremo a mettere la monachella, quindi qua, qua e qua, nel momento in cui facciamo questa decorazione con le 15.0, dobbiamo ripassare all'interno dell'archetto. Per far sì che questa venga al di fuori, quindi per far sì che fuoriesca, quindi formi una punta, cosa facciamo? Passiamo all'interno delle perline, tranne quella centrale. Quindi passiamo di qua, saltiamo la perlina centrale e andiamo avanti. Tirando, vedete come si forma la puntina? Adesso, praticamente, dovete fare questa decorazione a livello delle altre due perle, più questa decorazione qui. Quindi fuoriescire dalla seconda Rokai 11.0, inserire 5 Rokai 11.0 della seconda colorazione e rientrare nelle ultime due prima della Super Duo. E facciamolo per tutto il giro. Allora, in pratica, adesso il nostro modulino è praticamente finito. L'unica cosa che dovremmo fare, però, è quella di andare a rinforzare questi archetti. E per poterlo fare, dobbiamo ripassare, senza aggiungere niente, all'interno delle perline. In particolare, passiamo nella prima e nella seconda. Saltiamo la perlina centrale e passiamo nelle successive. E vedrete come si forma il nostro picot perfetto. Molto più solido e più stabile. E dobbiamo farlo per tutte e quattro. Quindi, senza aggiungere nulla, l'unica cosa che dovremmo andare a fare è saltare questa perlina per far sì che fuoriesca e l'archetto diventi più solido. Ecco qui, ragazze, che il nostro modulino è pronto. Lo trovo molto elegante in queste colorazioni ed è veramente molto rigido. Molto compatto il modulo. Mi piace molto. Come mi piace anche... Mi piace sia con la goccia che senza goccia. Ho preferito farli anche senza goccia perché io, quando ho i capelli sciolti, preferisco la goccina che si nota di più l'orecchino. Mentre quando ho il capello legato, la goccia non la metto perché mi sembra troppo evidente. Un orecchino troppo evidente. E niente, ragazze, spero che il tutorial sia stato chiaro e che vi piaccia il modulino. E vi chiedo scusa se vi sto bombardando, ma per me questo è un periodo abbastanza produttivo e al quale di sicuro seguirà, spero non troppo presto, un periodo di riposo come capita a tutti noi perlinatrici. Quindi ne sto approfittando per rendervi partecipi del mio periodo rigoglioso, ecco. E niente, ragazze, buona domenica a tutte. Vi mando un bacio e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!